Haslabat e Croce Rossa italiana a sostegno e a supporto dei più fragili? Certo, un'iniziativa nel mese della prevenzione per i tumori al seno. Abbiamo pensato che fosse necessario avvicinarci alle persone che hanno meno disponibilità economica e quindi offrire delle visite gratuite per prevenire il tumore della mammella. Se eventualmente troviamo dei noduli nelle mammelle che visitiamo, le inviamo direttamente in senologia. L'importanza della prevenzione? Penso che si debba partire da lì perché è meglio prevenire che curare, è una frase banale, però la medicina dovrebbe sempre di più orientarsi verso la prevenzione e non verso la cura. Noi abbiamo due popolazioni di donne che sono quelle senza familiarità e quelle con familiarità per tumore mammario, dell'ovaio, del pancreas o della prostate. Per le donne che non hanno un familiare con questa tipologia di tumore dai 50 ai 69 anni c'è lo screening mammografico regionale che funziona, arriva una lettera a casa, le donne si presentano nel posto dove dovranno fare la mammografia. Se è positiva vengono richiamate e si prosegue con gli altri esami di secondo o terzo livello. Se invece sono donne senza familiarità, la cosa buona è autopalpazione davanti allo specchio, di stesi sul letto ed è importante che ognuno conosca come è fatto il proprio corpo e segnali al medico se c'è un'alterazione. Inoltre la Regione Puglia ha una rete oncologica con dei centri di orientamento oncologico uno o più di uno in ogni provincia. Noi l'abbiamo nell'ospedale di Barletta, quindi se uno sente qualcosa di diverso può rivolgersi direttamente a loro.